greta loran che piacere greta loran pellegrino che piacere vederti a bordo pista a largo le inquadrature una pancino che direi che si vede appena appena sempre bella sorridente come stai innanzitutto ciao a tutti io sto bene sono contenta di essere venuta qua a Livigno e di vedere la prima gara di stagione devo dire che un po di voglia di fare una passata spinta ce l'avevo anch'io come sta come procede la tua bellissima gravidanza no devo dire che adesso sono molto fortunata non ho avuto nessun problema e quindi sono contenta spero di continuare così e che dicembre arrivi il prima possibile perché adesso che inizio a sentire un po i movimenti non vedo l'ora di averlo qua con me sapete già l'assesso del bimbo è un maschio e avrò il termine appena prima di natale quindi avremo un regalo di natale assolutamente greta riesci sempre a mantenerti in forma sappiamo le sportive non riescono a stare ferme nemmeno col pancione mi hanno detto che posso solo camminare quindi cerco di farmi le mie camminate devo dire che all'inizio quando mi trovo nei sentieri mi veniva stravoglia di correre però sapevo che non potevo mi cercavo di tenere quindi poi magari chissà se la neva arriva presto farò anche qualche sciata prima del termine che emozione è stata a scoprire questa bellissima notizia è stata molto bello perché comunque era un sogno che avevamo nel nel cassetto così era da quando chico mi ha chiesto di sposarlo lui mi aveva detto che sarebbe stato già pronta avere un bambino però gli ho detto aspetta che ho ancora qualche soddisfazione da voler togliermi e diciamo che è stata un po una sorpresa all'improvviso perché va detto chissà magari ci vorrà tanto tempo e invece la sorpresa è arrivata presto quindi anche per questo siamo stati fortunati e comunque contenti anche se all'inizio magari vedere poi veramente il risultato positivo un po ti ti spiazza. Greta per te la doppia felicità di poter condividere un periodo così bello anche con la tua amica del cuore lucia scardoni si è stato bellissimo anche quando io ho chiamato lei per dirglielo l'ho vista quasi stranito detto ma chissà come mai reagisce così poi mi fa e sono incinta anch'io quindi è stato bellissimo e ancora più bello adesso poter condividere la gravidanza assieme scambiarci consigli all'inizio era sul ma tu senti quello stai male non stai male invece adesso andiamo già un po oltre sulla hai visto il passeggino hai scelto i vestitini però è molto bello e sono contentissima di condividere questo percorso con lei. Ti ringrazio c'è tutta la federazione sport invernali che insomma è vicina a questo nipotino che arriverà buona continuazione Greta grazie grazie a voi Grazie Grazie